secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie bello quel muro, c'è anche da non... coglione e con la faccia da culo c'è anche da uomo? ma ti dico, da noi i matrimonio non si fanno tanto a noi qua sì, a Napoli sì qua la gente non si spo... cioè il matrimonio non l'ho mai visto ma qua di tutto si festeggia ormai anche i funerali? mai pensato a un funerale? dovrebbe essere secondo me un'esperienza abbastanza particolare no io non ci voglio stare a un funerale vabbè, comunque ci si diverte, nel senso comunque è una festa non si parla di artificio eh sì, ho questo... questo difetto secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie bello quel muro, c'è anche da non... coglione e quella faccia da culo c'è anche da... uomo? ma ti dico, da noi i matrimonio non si fanno tanto a noi qua sì, a Napoli sì qua la gente non si spo... cioè il matrimonio non l'ho mai visto ma qua di tutto si festeggia ormai anche i funerali the goodest thing the goodest thing, non si dice the goodest thing? the best the best the best thing in your life vabbè, insomma, un inglese renziano devo dire però vabbè, anche il mio quindi vabbè, ma sono sotto pressione, ci mancherebbe no, no, infatti non viene anche nel momento giusto no, no, infatti ho sbagliato, anzi ti chiedo scusa io per aver te lo chiesto in un momento in cui forse era migliore ma anche vorrebbe ci mancherebbe, hai fatto bene, hai fatto bene però c'è, no, c'è da dire che Vez andrebbe in galera in realtà ci sono... sì tu quanti anni hai, Barbarella? tredici è nero sì Gaia, secondo me è una che cura molto i suoi capelli ma non si rende conto che da spettinata da quei capelli unti o capelli curati è sempre la più bella di tutte vabbè, c'è solo lei qua daiii daiii mamma mia ma che ho detto di male mamma mia, c'è Papio no, raga ma che ho detto di male? ma dai, ma che non c'è una roba da dire non ce la faccio ma per me hai insultato Barbarella hai insultato Barbarella? ah no, scusa scusa, Barbarella, scusa no scusa c'è il danno e l'amberta pure no, 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 scusa scusa veramente che schifo no, ma scusa ma no, ma ti guarda benore rispetto alla telecamera, guarda no, 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 no sapete cosa mi ricordo? l'avete vista la clip di... di quattro risperanti? che cazzo ridi? dove uscì? no, è anche uscì nooo si che me lo faccio piazzare nel culo da vezzo ogni cosa che lì dicevi mi proponeva di fare sesso ma no internet a casa fare promozioni pornografiche grande lavorazione perché effettivamente lavora bene c'è nulla da dire bruttissimo non è nulla aaaaa aaaaa questa parte finale è stata incredibile bellissimo aaaaa aaaaa Giori è bellissimo comunque stupendo ma che ti hai fatto? incredibile ma questo è bellissimo incredibile devo regalarvi la sabbra la sera ripassata quando vuoi no, grazie a voi la mia soda tu prova che io se riesco volentieri vengo va bene va bene è stato un piacere Natalia un bacione ragazzi buona sera ciao Nat ciao Nat ciao ciao Nat eh ci mancava un po' Natalia abbiamo fatto la da un mese che non c'è abbiamo fatto la no nat challenge no nat July what the fuck no nat ti segui cosa? eh? cazzi miei mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso quando pensi troppe nei tuoi pensieri ciappoghi voglio start up da sonagli che mi guardi dentro agli occhi rossi e dove ti ritroverò? l'umido come posso fare finta di niente se parli con me il web detto va bene ha fatto più mila euro frate 10 mila euro è troppo cioè ma che cazzo è o cioè ma poi come te vada a fan tiktok del genere poi ti lamenti se te fanno la reaction al tuo tiktok che stai praticamente dicendo che sei una troia cosa? ma non è vero ma cosa vuol dire ma scusa? ma 12 mila euro pesco ma ho capito ma l'associazione tra il tiktok e sei una cioè non ho capito se tu rispondi su tiktok allora lei è una non ho capito no no scusa mi caia se tu dici una notte con me 100 euro no una notte con me 200 euro no una notte con me 500 euro no una notte come 12 mila euro aspetta ma lì devi capire se lei l'ha detto perché lei si fa pagare 12 mila euro perché è il suo lavoro o se dice io valgo quella cifra che allora ti dico si sta anche sminuendo perché io manco per 12 mila euro lo farei dipende che messaggio sta dando ma va lo faccio anch'io lo faccio anch'io io volete vedere l'ultimo di tiktok e ho messo like? è stato bellissimo no non lo voglio vedere rubino è stato bellissimo è stato bellissimo clippata si ok bestemmi no ti fai di qualche droga no non ho capito cosa fa tua madre bri vieni qua che non mi vado in giro come bri vieni qua che non mi vado in giro brisida no no sono un po' bloccata io ti vedo così si anch'io anch'io eh non mi va un cazzo ma mi sentite adesso? si ti sentiamo il ragazzo predestinato questo qua quale? chi è sta qua? ebbè è tua spuglia l'altra questo? questo qua? no lo metto in grande adesso fa dei complimenti molto particolari a sua figlia eccolo qua no 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 non è vero come il primo che ho detto no?